Un atto di umiltà su questa azione dell'Italicum? Renzi può tuttare quello che vuole, questo disegno del Paese che Renzi emmente, ovvero il Senato eletto da politici che arrivano all'interno del Senato e diventano senatori e hanno l'immunità parlamentare, il regolamento della Camera che viene stravolta e quindi le opposizioni sono imbavagliate, l'Italicum che è una legge autoritaria e l'occupazione della RAI tramite il disegno di legge governativo alla Renzi è chiaro che abbiamo un disegno molto preoccupante di tutto il Paese.